Ciao ragazzi, ciao a tutti, eccomi qua nuovamente con questi meravigliosi gnocchetti di riso questa volta l'ho fatto in bianco come mi avevo anticipato ci ho messo un mix di verdure, ho fatto diciamo una sorta di meraviglia di contaminazione italiana anche perchè queste sono le verdure che avevo e queste ci ho messo, ho fatto carote cime di rapa, poi ho fatto l'uvetta e voi direte oddio Anto, no, è spettacolare, preghita tipo una nota dolce e poi i frigidelli e questi sono appunto, mi sto spavando sono appunto seccati, guardate ecco i gnocchi di riso e quindi cincin non è spettacolare, non è buon po' quello che avete è spettacolare che carotino non è buon po' non è buon po' Mamma mia Spettacolo Ho messo anche un goccettino di salsa di soia Sia in cottura quando l'ho appiastrati Che ora con voi Oh mio dio Non me ne aspettavo così buoni Sottirizioni Pago la salsa di soia Poi ho messo mille spezie E pure l'aglio in polvere Spettacolare 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 Favorite Spettacolare 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 Sp dreig Tabac feeder I Lecto Sì, non è vero. frittitella love you mamma mia non so se sta più buon il sugo in bianco ma non so se sta più buon ma questi ce li facciamo sul primo canale la ricetta l'uquetta è strepitosa ho fatto il toccione, ho ancora i capelli umidissimi è molto bello Buon appetito! Sì, non è vero. mamma che spettacolo non ce l'aspetti proprio questo sapore come c'è un po' è l'ultimo veramente il rosso è che ciò, il rosso è che ciò ultimo frittitello un bacione ragazzi alla prossima ciao